andiamo a vedere signori il pass battaglia della season 6 capitolo 2 al primo jonsi la gente lo volevamo da tantissimo ragazzi al secondo l'icona stendardo di jonsi scappato di casa mi chiamano attenzione sempre lui ragazzi livello 4 ci sono i vbucks livello 5 la prima schermata di caricamento livello 6 invece l'adesivo di jonsi molto bello e al 7 bella spazzata jonsi che fa la bella lavanderina si va avanti a livello 8 dopo lo 0 la schermata il background musicale scusatemi e a livello 9 il teaser che ci avevano mostrato quindi con tanto di schermata di caricamento livello 10 zaino da sopravvivenza con faretra e frecce livello 11 pronta a tutto un adesivo si passa direttamente al 13 con un altro spray quello di lara croft e a livello 14 lo zaino con tanto di incarico livello 15 invece la prima skin lara croft tutta lercia ma molto molto carina livello 16 arriva la prima coppia di picconi di lara croft mentre al 17 la scia specialità dello speleologo belli 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 a livello 18 invece c'è il salto felino che ti permette di andare alla grande e spostarti dal nemico mentre al 20 il paracadute di recupero ragazzi deltaplano molto molto carino al 21 l'icona dello standardo di lara e al 22 il 25esimo anniversario di lara croft la skin dedicata si passa al 23 ragazzi con la carica giurassica molto bella come copertura al 24 invece lo spray cacciatore primordiale un adesivo invece per il 25 urlo sculli molto carino e al 26 invece il motosauro la prima una picconazza in movimento livello 28 nuovi incarichi per il nostro jonsi con il lo zaino da campo di jonsi a livello 29 ragazzi tarana molto molto bella questa skin del pass battaglia si passa al 30 dove c'è la pattuglia delle ossa e si va direttamente al 31 con il suo standardo al 32 invece c'è il croupier un emote dove si mischiano le carte si fanno dei giochetti e al 33 nuova schermata di caricamento di tarana livello 34 per il backpack che completa il set livello 36 dino puma ragazzi un deltaplano livello 37 invece tarana con l'armatura nuova molto carina ma più bello senza livello 38 lascia di cristallo dei maestri al 39 una nuova copertura livello 40 per il maestro dei glifi livello 42 background musicale raise up molto molto bello livello 43 invece una nuova icona dello standardo e al 44 l'incursore dei glifi come schermata di caricamento livello 45 il cifrario volante deltaplano classico stile classico di fortlet mentre al 46 il backpack della pergamena infinita livello 48 le cromo fiamme una bella scia mentre al 49 il salto 31 zaino da campo di jones e al 50 una nuova skin leggendaria ras molto molto bello abbastanza curioso invece il nome dell'adesivo del livello 51 e al livello 53 la nuova emote tecnica di meditazione con fluttuazione attenzione livello 54 l'onda di curvatura una scia ovviamente e al livello 55 ala della collina si va avanti al 56 con il backpack del polletto che troveremo più avanti al 57 invece lo standardo livello 58 per ovolo praticamente un uovo con il culo in poche parole a livello 60 un altro zaino da campo di jones salto 42 ed eccolo qui ragazzi al 61 cocodè un milite piccione pulcino quello che l'è molto carino box al 62 al 63 invece ragazzi uno spray che si dice levati al 64 invece le cosciette come piccone al 65 invece ovetto un adesivo 66 per rimanere in tema la copertura fuori pollo e al 67 la variante azzurra dello zaino uovo si passa al 69 con cocodè in versione succosa al 70 selvaggio un altro background musicale al 71 la figlia di tro di trigon scusatemi scusatemi un uno spray livello 72 per invece proiezione astrale volante come deltaplano e al 74 adesivo il potere di asarat livello 75 invece per la copertura e al 76 lo zaino da campo salto 38 di jones al 77 ragazzi corvina rinata un'altra skin si va al 78 con la forma astrale il piccone livello 80 invece per la schermata di caricamento a livello 81 il suo standardo livello 82 il dorso cancello bidimensionale e all 83 asarat metrinon zitos praticamente un emote a livello 85 invece l'outfit sempre di corvina ma nella variante classica per arrivare poi all 86 con la copertura animata all 87 invece una schermata di caricamento l'ombra della guglia livello 88 con lo standardo del miau miau livello 89 il fuoco di guglia come vedete un deltaplano livello 90 la banana no come adesivo livello 91 invece lo spray kaboom in stile anni 30 livello 93 e penultima fase del dello shop ali dell'anima andiamo a chiudere ragazzi con il 94 senti che energia intrusione dimensionale come una scia lo spray della maestra della guglia al 96 le fiamme della guglia per arrivare al 97 con lo standardo ovviamente e al 98 l'adesivo chiude il pass battaglia di livello 100 con assassina della guglia la skin che non è malissimo ma va un attimo capita insieme alla guardia della torre che è la sua emote insomma ragazzi molto molto bello anche questo pass battaglia della season 6 capitolo 2 scrivetemi qua sotto nei commenti qual è il vostro il vostro premio preferito di questo pass battaglia dai e